Oggi scatta ufficialmente la stagione dei Biancazzurri, alle 5 e mezza a Palena il primo allenamento ma noi andiamo a conoscere da vicino un pezzo pregiato del mercato del Pescara, Luca Mora da oggi ufficialmente un giocatore del Pescara. Ciao Luca, buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi intanto ti chiedo subito perché Pescara? Ciao innanzitutto, ma Pescara perché il direttore del Icari mi ha chiamato mi ha parlato un po' dell'idea che aveva per quest'anno e mi ha convinto subito poi ovviamente ci sono stati un po' di giorni per fare la trattativa però ecco, avevo voglia di rimettermi in gioco e Pescara mi ha dato questa opportunità quindi spero di ricambiare e di fare bene con la squadra. Parliamo un po' degli ultimi tuoi anni, spezzi e spalle, quindi calcio di livello più alto rispetto alla Serie C hai detto, ho parlato con Dell'Icari, mi ha prospettato degli obiettivi, quali? No, no, obiettivi, lui mi ha parlato della sua idea per quest'anno è chiaro che stiamo cambiando tanto, stanno cambiando tanto quindi ci sarà da ricostruire un po' il gruppo aveva bisogno di persone che oltre ad essere bravi calciatori spero di essere, e anche personalità importanti all'interno dell'ospedatoio per ricreare un gruppo, una mentalità vincente perché è chiaro che l'obiettivo quando si gioca a calcio è sempre vincere e per di più quando si gioca per società importanti come il Pescara in Serie C fare il meglio possibile e quindi ci vogliamo provare. La senti di dire che l'obiettivo è andare in Serie B? Ma degli obiettivi secondo me è meglio che parli la società io sono appena arrivato oggi il primo giorno quindi insomma penso, ripeto, a fare bene a cominciare il ritiro, devo ancora conoscere tutti il mister, i compagni di squadra, la città andiamo in ritiro, cominciamo a conoscerci a fare di tutto per vincere perché vincere è difficilissimo fare di tutto per vincere è un po' più semplice quindi spero che tutti faranno il massimo per vincere. Il ruolo di Luca Mora, chiaramente noi ci ricordiamo una mezzala che sa stare benissimo in campo con i tempi di inserimento, fa anche gol già hai parlato con Delicarri su quello che ti chiederà Colombo? Ma no, sinceramente io sono una mezzala sinistra poi è chiaro che è il mister che deciderà un po' dove schierarmi o se schierarmi quindi di questo non abbiamo parlato. Guardiamo invece a quello che è successo qualche anno fa a Pescara, anzi un anno fa se non ricordo male Pescara-Spezia 0-1 discussione con... Pescara-Spall chiedo scusa. 0-1 discussione con Drudi calcio di rigore la piazza si è un po' infiammata ma che è successo quel giorno? Ma io sinceramente di tutto questo incendio non sapevo niente ma credo un episodio di campo un rigore che l'arbitro ha fischiato e poi dopo in un'altra azione credo ci sia stato Drudi è venuto verso di me quindi insomma io non è che c'entravo tanto in quella storia l'arbitro ha ammonito tutti e due lui era già ammonito quindi l'ha espulso però ecco sinceramente io già la sera non mi ricordavo più di niente Parliamo un attimo di questa trattativa per arrivare a Pescara hai detto con la gente Paolo Scotti che tra l'altro salutiamo ci siamo sentiti spesso da subito avevi detto che Pescara era una piazza importante anche se serie C tu volevi la B ecco qual è stata la scintilla? Ma io non è che volessi la B sinceramente è chiaro che dopo 5-6 anni in cui giochi in serie B essendo una categoria superiore un giocatore cerca sempre magari di rimanere a livelli più alti possibili però non ho mai posto dei paletti anche perché insomma comunque ho accettato Pescara al 10 di luglio circa quindi insomma quando mancava ancora un mese e mezzo alla fine del mercato avrei potuto benissimo provare ad aspettare chiamate di categoria superiore ma io cercavo una piazza dove si fa bene calcio un bello stadio centro sportivo tifosi appassionati una bella città ripeto l'idea appunto si dice sempre progetto un progetto che vedesse appunto il calcio al centro di questo progetto e l'ho trovato e quindi sono molto contento sono carico qui si può fare calcio bene questa è la cosa che voglio fare quest'anno provare a fare il meglio possibile prima di restituire la linea marina in studio noi ci ricordavamo Luca Mora capelli lunghissimi e tanta personalità in campo la personalità in campo resta siamo sicuri al 100% ma i capelli? i capelli mi sono tagliati perché mi sono sposato mi è nata una bambina devo avere un po' più un look da padre grazie a tutti